Colpita la testa poi soffocata, è morta così Anica Panfile, la trentenne di origine rumene trovata morta in un'ansa del Piave lo scorso 21 maggio in località Palazzon del comune di Spresiano. In manette per questo omicidio Franco Battaggia, 76 anni, veneziano, ex datore di lavoro. Lui sarebbe stata l'ultima persona ad averla vista viva. Le indagini serrate dei carabinieri hanno portato ad un unico indagato. Dopo la relazione dell'anatomo patologo Antonello Cirnelli, arrivata in procura solo poche ore fa, è scattato l'arresto. Due auto dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso sono andate a prenderlo, rintracciato, fermato e portato in caserma, in via Cornarotta. L'uomo deve rispondere di accuse gravissime, omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata. Battaggia, dopo ritrovamento del corpo, aveva fornito diverse versioni. Era andato a prenderla quel giorno all'Isra, dove la donna lavorava nell'ultimo periodo, poi l'aveva portato a casa sua ad Arcade, secondo quanto aveva riferito agli inquirenti per consegnarle il CUD. Ed è in quel momento che l'incontro si trasforma in tragedia. Lei scompare nel nulla, fino al 21 maggio, quando il corpo viene trovato da un cittadino. Anika presenta delle ferite. L'autopsia rivela che ha subito un forte colpo alla testa e che la giovane mamma è stata soffocata ed uccisa. Non solo, nel corpo è stata trovata cocaina. Tante le domande. Anika faceva uso di droghe? O è stata costretta a prenderla? E perché? Certo è che da quella casa potrebbe non essere uscita viva. Nessuno l'ha più vista, né in strada, né in piazza. Si ricompone il puzzle di un delitto che ancora non aveva un responsabile, un killer che ha agito a sangue freddo. Quasi otto mesi di indagine dei carabinieri, di accertamenti ed analisi dei risse e poi la relazione determinante. Anika è stata uccisa soffocata forse con una mano sulla bocca. Il provvedimento che è stato eseguito recepisce integralmente i gravi, precisi e concordati elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini nei confronti di battaggia, spiegano i carabinieri, corroborati dalle risultanze della consulenza medico-legale che, evidenziando il traumatismo plurimo cranio-cerebrale e la sindrome asfittica da soffocamento patita dalla vittima, affetta da intossicazione acuta da stupefacente del tipo cocaina, ha ulteriormente avvalorato la ricostruzione della vicenda omicidiaria prospettata dalla Polizia Giudiziaria e dalla Procura della Repubblica. Il fermato, espletate le formalità di diritto, è stato trasferito alla casa circondariale di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.